Pallone profondo per Oscar, riesce al tocco sotto Bellerin, si guarda anche dall'arrivo di Ramirez con grande lucidità, con grande fedezza, concede il calcio d'angolo sul tocco sotto di Oscar, occasione macroscopica per il Chelsea. Monreal, si fa vedere Sanchez, inizialmente senza pressione, prova a prendere velocità, sbatte su Matic, allora allarga, vuole Bellerin, grande idea, allungo la sponda di Bellerin, Casorla con una mano, forse Cahill, Cahill con una mano, braccio largo, ha rischiato tantissimo Cahill, guadagna metri il Chelsea, ancora il brasiliano, palla dentro, intelligente per Ramirez, va con l'esterno destro, non dà potenza. Osil, palla sul sinistro, due tocchi per Casorla, dentro l'area, si stacca dalla marcatura, va al sinistro, deviato Bellerin, in mezzo, Giroud anticipato, palla che resta lì, ancora Casorla, Osil si gira, con il destro, centrale, la tiene Courtois. Sanchez allarga per Monreal, in mezzo Giroud, Monreal direttamente in porta, trova Giroud, Sanchez col tacco, ancora per Coquelin, prova a far scorrere, bene Casorla, azione splendida, Corale, Monreal in mezzo, cercava Sanchez, ha trovato Terry, va a Casorla, respinta corta, Mertesacker, non trova la porta, Bellerin, sulla corsa, va al cross, Terry prolunga, Sanchez mette giù il pallone, forse perde l'attimo, ricomincia da fuori area, ancora Sanchez, allarga per Monreal, cross basso in mezzo, Welbeck non trova fisicamente il pallone.